Il rivoluzionario Connex Spot Monitor di Walsh-Hallin consente agli operatori sanitari di acquisire automaticamente una serie completa di parametri vitali e calcolare gli Ernie Warning Scores in appena un minuto. Quindi, con la semplice pressione di un pulsante, è possibile inviare i dati direttamente dal letto del paziente alla cartella clinica elettronica, riducendo errori e ritardi. Vediamo come funziona. In primo luogo, l'operatore sanitario esegue la scansione del suo ID. Successivamente, scansiona il codice barre associato al paziente. Il CSM estrae in tempo reale i dati del paziente dal database centrale dell'ospedale, confermandone l'identificazione sullo schermo. Successivamente, vengono acquisiti i parametri vitali del paziente. Grazie alla tecnologia Sure BP di Walsh-Hallin, la pressione arteriosa viene generalmente acquisita in meno di 15 secondi. Allo stesso tempo, è possibile ottenere SPO2, frequenza di polso e temperatura corporea del paziente. È anche possibile aggiungere parametri manuali utili al calcolo del Learning Warning Score. Il CSM può a tutti gli effetti essere utilizzato come stazione di emissione dati per un massimo di 20 parametri manuali, tra cui dolore, respirazione e glucosio. Al termine, l'operatore sanitario visualizza sullo schermo un riepilogo accurato relativo al Learning Warning Score e le istruzioni ospedaliere su come procedere. Tornando alla schermata principale, i dati possono essere rivisti e salvati nella cartella clinica elettronica. Con CSM, Walsh-Hallin offre il meglio nell'acquisizione di parametri vitali e una connettività continua alla cartella clinica elettronica, contribuendo a ridurre i tempi di osservazione dei pazienti e consentendo agli operatori sanitari di trascorrere più tempo accanto ai pazienti e meno a compilare documenti. Questi sono solo alcuni degli aspetti più interessanti del Conex Spot Monitor e di come potrebbe aiutarvi ad aumentare l'efficienza e la sicurezza dei pazienti. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante locale Walsh-Hallin o visitare il nostro sito web.